Oipa, che ti disturbo stai leggendo? Sì, sono suoi iadri che hai Ti vuol dire soltanto una cosa Sai oggi è un programma speciale e ho fatto dei pensieri Mi stavo domandando che cosa significa essere papà Quando capisci di volerlo essere? A te come è successo? Cioè, quando hai capito che eri pronto? Hai aspettato tanto? Ma, voglio dirlo, io non è che proprio ho deciso, ho aspettato Perché io proprio mi sono svegliato una mattina Sì, mi sono guardato con l'occhio di tua madre Lei si è incrociata a sguardo suo e a sguardo mio E da lì avevo capito che era il momento giusto Che era il tuo momento, lei lei Ma davvero? Ma che cazzo stai diventando di fare che dico stai stronzati? Ma c'è poi, crede? E' che a noi ci ha detto Pedalino, da lì C'ha detto? Ci ha detto sfiga, mi sei scalato il preservativo Mannaggia qua, sozza, zocco, la mignota, no tu madre, eh? Per carità, quella è una santa donna Eeeh Ehi, c'hai creduto, eh? E' un pochetto Ha fatto bene, perché è proprio così che è nata Mannaggia al cazzo, in tutti i sensi, eh? Tanti auguri, papà E auguri al cazzo Oh, 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 oh Grazie a tutti.